Siamo Giuseppe Licata e questa sera a Lozza siamo in Comune, è una sera molto particolare e anche molto emozionante perché dopo otto anni Giuseppe lascia il testimone da sindaco dopo l'elezione in Consiglio regionale, innanzitutto gli chiediamo cosa significa per una persona molto legata al suo territorio, che porterà anche il territorio in regione, questa serata. Una serata di grandissima emozione, emozioni che si mescolano dalla soddisfazione e l'entusiasmo per l'elezione in regione alla commozione perché finisce oggi un ciclo, concludo un'esperienza anche di vita prima ancora che amministrativa e politica durante il quale ho fatto tutto ciò che potevo per questa comunità e continuerò a farlo perché ciò che sto raccontando ai cittadini e chiedo alla regione, spero di continuare a impegnarmi per questo comune, per il territorio e per la Lombardia. Qual è stato il momento più emozionante che porterai nel cuore di questi otto anni, anche se tu continuerai a vivere a Lozza e a vivere la quotidianità del paese? Sono tanti momenti, tante cose che mi porto nel cuore e anche nella testa, tante le istanze che ho accumulato in questi anni, tante le proposte, tanti progetti che porterò in regione, tante le cose anche successe, tante cose belle, anche tante difficoltà, tante fatiche che però si sono superate con la collaborazione. Infatti oggi ho chiamato qui in comune per un saluto ufficiale le associazioni di Lozza, che sono tante associazioni, particolarmente il gruppo di protezione civile, il gruppo Alpini per ringraziarli perché insieme alla Giunta, a tutti i consiglieri comunali e ai tanti volontari sono le persone che mi sono state vicine in questi anni. Ricordo con grande affetto il momento in cui l'allora sindaco Adriana Fabiana mi passò il testimone, mi passò la fascia tricolore, una grande emozione in quel momento, oggi la passo io al mio vice sindaco Maurizio Runchina, che sono sicuro che potrà fare molto bene per questo comune, magari anche meglio di me, gli auguro di fare molto bene, ovviamente lo collaborerò per quanto potrò, con gli strumenti maggiori che adesso avrò in regione, spero di continuare a lavorare per questo territorio e anche per questo comune.